Nicolo Govoni, ciao! Ciao, ciao! E grazie per aver risposto alla mia videochiamata, che come sai stiamo registrando. La condivideremo infatti con chi vorrà partecipare alle nostre gocce di gratitudine. Ti presento, sei partito come scrittore e sei diventato attivista, sei molto giovane, 26 anni. Sei presidente e anche cofondatore della ONLUS internazionale Still I Rise e sei anche stato candidato dallo Stato di San Marino, così giovane, al Nobel per la Pace nel 2020. Anno molto particolare per una candidatura di questo tipo. Hai costruito la prima scuola per rifugiati a Samos, in Grecia, e la seconda, sempre per rifugiati, in Turchia, a Gaziantep, corretto? Esatto. Che dove ti stai, dove ti trovi in questo istante, no? Esatto. E stai lavorando a progetti per il Kenya, quindi in Africa, in Centro America, in Messico e anche in Italia. Nel futuro, speriamo. Esatto. E quindi innanzitutto, wow, grazie perché così giovane un impegno sul sociale di grandissimo rispetto. Ci troviamo. Però siamo in un momento particolare, è scoppiato il coronavirus, che si sta, come pandemia, diffondendo su tutto il pianeta, e tu hai deciso di non tornare in Italia, tu sei di Cremona, e di rimanere lì in Turchia. Mi dici, in un momento così particolare per la vita, veramente oggi possiamo dirlo di chiunque sul pianeta, cosa ti ha guidato in una scelta così impattante per la tua vita? Non tornare dai tuoi cavi, nel tuo paese restare. Certo. Sì, noi ci troviamo qua in Turchia da ormai quasi sei mesi, appunto per l'avviamento di questo progetto, che finalmente si è concretizzato la scorsa settimana, con l'apertura della scuola, e purtroppo qualche giorno dopo è arrivato l'ordine del governo, per cui abbiamo chiuso. Dal team della Turchia alcune persone hanno deciso di ritornare, giustamente alle proprie cari, e ho deciso di restare insieme a altri due miei colleghi. Quanti eravate quando avete avuto la notizia? Eravamo sei coordinatori, e ora siamo in tre. E io, Nicoletta e Michele, abbiamo scelto di restare per, uno per, insomma, un senso di fedeltà al progetto e alla parola spesa, no? Abbiamo lavorato così tanto per arrivare a questo punto e vogliamo assicurarci che questo progetto sia, cioè che il giorno in cui speriamo presto questa crisi rientri, il giorno dopo possiamo riaprire la scuola e riaccogliere questi studenti. Allora, è stata una scelta, ma una scelta quasi necessaria, perché mentre... Il progetto è vostro, no? Il progetto è un progetto vostro. Il progetto è nostro. Quando è partito? Stila Airyze nel 2018, quindi due anni fa, e invece la Turchia a ottobre dell'anno scorso. Ok, ok. Quindi grandissima fedeltà. La prima cosa, la prima goccia che ti rubo è l'idea di fedeltà a una propria visione, a un proprio mandato. Tu te lo sei dato, nessuno ti ha imposto una scelta come questa. Certo, sì. Sì, penso che per noi sia una chiamata, senza tirare in ballo la religione, ma qualcosa che ti senti dentro, perché ti fa sentire utile, diciamo. Ecco, che è una bella sensazione. Questo momento, che sta incutendo paura a tanti, possiamo dire che in voi invece sta rafforzando proprio la missione, il mandato, lo scopo della vostra vita? Almeno in questo senso? In un certo senso, sì. Sì, certo. Poi anche noi siamo terrorizzati. La mia famiglia è di Cremona, per cui zona rossa originale. E la mia famiglia sta anche avendo difficoltà con questo virus. Quindi l'ansia c'è tanta. Però, d'altro canto, insomma, siamo delle ONG e penso che le ONG debbano... Ci sono per questi motivi. Ci sono per momenti come questo, in cui la gente ha bisogno e ha bisogno di un supporto. E a che cosa è che tutti i giorni ti agganci per restare sui tuoi binari che ti sei, peraltro, costruito? La nostra visione, a lungo termine, è semplice. Noi vogliamo offrire educazione di alta qualità a bambini che non potrebbero mai permettersela. Ed è questo a cui io tendo. Non siamo ancora arrivati a concretizzarla perché ci vuole una struttura, ci vuole... E siamo all'inizio, ci stiamo provando. Ed è quello che mi tiene, mi tiene ancorato e mi tiene... Anche nei momenti di sconforto, insomma, mi tiene ottimista. Ed è l'idea che l'educazione è considerata dai più come qualcosa di equo, mentre secondo noi non lo è. Non è vero perché ci sono scuole da 20.000 euro l'anno dall'asilo e scuole invece che non lo sono sia in Italia che in tutto il mondo e non è vero che sono uguali. E purtroppo alcune scuole preparano i bambini in un certo modo che poi diventano i futuri politici, i futuri leader. se tu dovessi sintetizzare il tuo scopo nella vita in una frase breve e intensa? Restituire il futuro a bambini che l'hanno perso non per colpa loro. Che bello. Ascolta, è un momento particolare, ce lo siamo già detti, e probabilmente ce lo dovremmo ridire lungamente. Riesci a essere grato a questo momento? C'è una cosa che ti fa dire grazie lo stesso, nonostante tutto, un insegnamento, una consapevolezza prodotta, perché tutto il mainstream ci sta focalizzando su morte, sofferenza, paura, no? Paradossalmente un virus che non ha barriere, non ha confini, in realtà ci sta separando, no? Questi contro quelli, avete fatto bene, avete fatto male. Ecco, a me interessa invece capire se tu oggi, nonostante tutto, riesci a essere grato a qualcosa? Sì, devo dire di sì, chiaramente non è una, cioè, devi superare poi quella che è l'ansia e la paura di questo virus, ma mi sento molto grato del fatto che per così tanto tempo, per così tanti anni, tutti noi abbiamo avuto il privilegio di vivere tranquilli, senza questa minaccia, senza questa paura, mentre altre popolazioni nel mondo fronteggiavano l'ebola, la SARS, la MERS, morendo, cioè, senza scampo, perché non avevano neanche le strutture che abbiamo noi e, mentre noi abbiamo avuto il privilegio di essere protetti, di continuare le nostre vite, come se questi pericoli non esistessero. Quindi, molto grato del fatto che per così tanto tempo abbiamo pensato di essere invincibili e grato anche, speriamo, come proiezione futura del fatto che forse impareremo adesso e la prossima volta che ci sarà un'epidemia di Ebola in Congo non ce ne fregheremo così tanto perché forse potrebbe arrivare anche da noi per cui è meglio aiutare anche una situazione che pare così sconnessa da noi e perché non vogliamo essere coinvolti e perché è umano farlo. Hai paura? E questo senso di gratitudine ti aiuta? Ti nutre? Sì, di sicuro. Di sicuro è quello che ti tiene in piedi. Che bello. Ti sono grato anch'io molto. 26 anni è una vita vissuta intensamente come tutte le altre vite dico io però mi porta a casa come goccio di gratitudine una forte consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi deve ricoprire per l'insieme. Non è importante come purché ci sia la consapevolezza mi verrebbe a dire che siamo tutti interconnessi che abbiamo tutti dei diritti certamente ma anche degli obblighi verso questo insieme che ci contiene sia in quanto umanità che in quanto pianeta. Credo che sia un grande momento di consapevolezza per molti per quello che siamo vivendo. riusciamo a trasformare la paura in un senso di gratitudine potrebbe essere un momento di risveglio per tanti e potremmo ritrovarci in un mondo non da ricostruire ma di costruire nuovamente in una maniera nuova. Speriamo, sì. Io per questo ti sono infinitamente grato e ringrazio anche chi ci ha osservato ascoltato guardato sperando che la tua goccia di gratitudine abbia tolto un po' di aridità da questo mondo e portato un po' di amore. Grazie. Grazie a te Oscar. Grazie. Ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Grazie a tutti.